8 cose che devi conoscere per capire meglio te stesso e gli altri allora la prima è che ciò che ti infastidisce nel comportamento o nell'aspetto degli altri non è nient'altro che il riflesso delle tue insicurezze e delle tue fragilità altrimenti manderesti a fanculo e te ne fotteresti 2 non ti puoi fidare delle persone che non si fidano di te questo devi tenerlo presente 3 più cerchi di fare colpo sulle persone meno le impressionerai più manterrai il distacco meglio è 4 il fallimento in realtà è semplicemente una condizione necessaria per il successo tutte le persone che hanno fallito e che hanno superato il fallimento riescono ad avere successo nella vita nel lavoro nel danaro quindi il fallimento è una prova che tutti devono affrontare in qualunque ambito della vita nel lavoro nelle relazioni sentimentali se tu superi un fallimento riuscirai a trovare la persona giusta quindi manda a fanculo quando le cose non vanno uno ti rifiuta mandala a fanculo uno ti abbandona mandala a fanculo finché non troverai la situazione giusta 5 quando c'è qualcosa che ti spaventa che ti fa paura che diciamo che ti tiene un po' col fiato sospeso bene lì devi fare un atto di coraggio e affrontarla altrimenti la fortificherai sempre di più 6 una delle più grandi paure è la morte va affrontata è fondamentale affrontarla altrimenti morirai senza aver veramente vissuto 7 se temi il fallimento aumenterai le probabilità di fallire ma questo vale per tutte le paure se temi l'abbandono aumenterai le probabilità di essere abbandonato se temi qualunque cosa se temi di parlare in pubblico ti troverai in situazioni dove sarai costretto a parlare in pubblico fallendo e per finire 8 più impari e più ti rendi conto di quanto c'è da imparare quindi non smettere mai di imparare soltanto gli ignoranti credono di sapere tutto seguimi su youtube Massimo Tramasco anche sul nuovissimo canale youtube esoterismo e spiritualità con Massimo Tramasco seguimi su instagram su tiktok e su tutti i miei canali youtube crescita personale, felicità benessere, amore e autostima attivando la campanella e ovviamente Massimo Tramasco attivando la campanella così riceverai le notifiche dei nuovi video ciao a tutti